Mi chiamo Silvia Parente, io perso la vista quando avevo tre anni a causa di una malattia. Arrampico da sette anni, ho iniziato nel 2007 quando un'amica mi ha portato per la prima volta in palestra. Oggi vado quasi tutti i giorni ad arrampicare, è diventato il mio sport principale, non potrei più farne a meno. Io che non vedo niente, posso fare sicura in completa autonomia anche una persona che ci vede. È bello perché arrampicare bisogna essere in due, uno che fa sicura e sta sotto e tiene la corda e l'altro che arrampica. Io penso che lo sport faccia bene a tutti per mille motivi, per le persone disabili e io parlo in particolar modo perché ha problemi di vista, è un strumento che ti insegna tantissimo. Per esempio a me ha insegnato a muovermi nello spazio, ha insegnato come reagisce il mio corpo quando si muove nello spazio e questo mi ha dato la possibilità di muovermi da sola, orientandomi, prendendomi dei punti di riferimento, ma non solo in palestra ma anche nella vita quotidiana. Per esempio a me ha insegnato a muovermi nello spazio, ha insegnato come reagisce il mio corpo quando si muove nello spazio, ma non solo in palestra ma anche nella vita quotidiana. Per esempio a me ha insegnato come reagisce il mio corpo quando si muove nello spazio, ma non solo in palestra ma anche nella vita quotidiana. Per esempio a me ha insegnato come reagisce il mio corpo quando si muove nello spazio, ma non solo in palestra ma anche nella vita quotidiana.